Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buonasera. Quest'oggi siamo in Francia, come potete notare, e andiamo a preparare una ricetta particolare, ossia gli éclair. Gli éclair sono un dolce a base di pasta choux che ho già realizzato e ho posto nella sacca poche. Adesso farò vedere come realizzare invece l'éclair. In questo modo andrò a realizzare l'éclair. Mi raccomando, state attenti alla lunghezza, non troppo lungo né troppo corto. Preparato l'impasto, cuocete a 200 gradi centigradi per circa 20 minuti. Eccoli appena sfornati. Il primo tipo di éclair che andrò a realizzare sarà l'éclair paradiso, con questo tipo di crema, realizzata con zucchero a velo, latte condensato e panna. Ed ecco l'éclair paradiso. Il secondo tipo di éclair sarà un éclair Ferrero Locher, realizzato con questa crema a base di cioccolato e noccioline. Il terzo tipo di éclair sarà un éclair tiramisù, realizzato con una crema a base di mascarpone, latte condensato e caffè. Il quarto tipo di éclair è l'éclair sinfonia, realizzato con una crema a base di panna, zucchero a velo, latte condensato, gocce di cioccolato e noccioline. Il penultimo tipo di éclair sarà l'éclair, battezzato da me, ghiaccio, realizzato con una crema a base di cioccolato fondente e cioccolato a menta. L'ultimo tipo di éclair che andrò a realizzare è un éclair ispirato a me stessa in realtà, con i gusti che preferisco, battezzato éclair Michela. Qui andrò ad aggiungere una crema a base di panna con scaglie di cioccolato al latte ed infine una crema a base di Nesquik. In realtà questi éclair, tutti questi tipi di éclair sono abbinati alla personalità di alcuni miei colleghi della redazione di Vivi Casagiove. Iniziamo da questo tipo di éclair, l'éclair paradiso, tipico per una persona raffinata, semplice, pura e radiosa. Passiamo invece all'éclair Ferrero Rocher, indicato per una persona misteriosa, enigmatica e talvolta sensuale. Passiamo adesso invece all'éclair con la cioccolata a base di menta, che io ho soprannominato éclair ghiaccio, perché è indicato per una persona apparentemente rigida, ma scoprendo questa persona si capisce che ha un gran cuore ed è molto affettuosa. Adesso è la volta invece dell'éclair tiramisù. L'éclair tiramisù designa una persona vivace, una persona che prende la vita sempre con allegria. Il penultimo éclair invece è questo éclair sinfonia, tipico per una persona elegante e di classe. Ed infine questo è l'éclair indicato per me, è battezzato éclair michela. La crema alla panna indica e simboleggia la mia ingenuità, dati gli anni e la mia semplicità. Il cioccolato invece, quel pizzico di malizia che è in me, e il cioccolato fondente con le goccioline, quella punta di ironia che è tipica del mio carattere. Buona degustazione! Grazie! 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 Grazie!